Presidio fisso di Polizia Ferroviaria, rinforzi utili a rimpolpare un organico ridotto di un quarto. Sono gli interventi destinati alla stazione di Saronno, la cui urgenza è stata riaffermata in prefettura durante l'incontro del Comitato Provinciale per la Sicurezza, convocato giovedì mattina dal prefetto Salvatore Pasquariello alla presenza delle Forze dell'Ordine e del Sindaco Augusto Airoldi. La stazione di Saronno, come ribadito durante il vertice, resta uno degli snodi ferroviari più trafficati con oltre 28.000 passeggeri in transito ogni giorno. Il giro di vita nei controlli non si limita al solo terminal, ma anche alle aree circostanti visti gli episodi di bivacco e degrado testimoniati più volte.